Come accade solo nei più importanti impianti sportivi internazionali, anche lo stadio mercante si è dotato dei primi skybox. Sono sei in tutto. Hanno debuttato nella gara vittoriosa di domenica contro l'Albinoleffe. Gli skybox, realizzati dalla società giallorossa, sono stati pensati per accogliere sponsor e partner interessati a vivere lo spettacolo in modo esclusivo. E' stato inoltre completato un nuovo settore della tribuna denominato Premium, con l'installazione di 102 poltroncine in pelle. Grazie a tutti.